Ci troviamo qui a San Colombano Certenoli, un percorso di 2,4 km, molto divertente. Per la poca esperienza che ho nel ciclocross ho trovato un percorso tecnico, quindi lento, molte curve e controcurve. C'è un passaggio insidioso, per quanto mi riguarda, come vi ho detto, è 20 anni che non salivo più su una bici da ciclocross, quindi grazie a Daniele Pontoni sto rassaporando un po' questa mia vecchia storia da ciclocross perché anche io ho fatto qualche gara in sella alla bici da ciclocross. Comunque, bello, il percorso mi sono divertito, ho visto che anche i ragazzi si sono divertiti, insieme al CT hanno potuto scoprire i lati insidiosi di questo percorso. Adesso passo la parola a Daniele che sicuramente ne capisce più di me. Intanto io ho piacere che continua questa collaborazione tra me e Mirko, che è già iniziata quest'estate, quindi mountain bike, ciclocross, specialità del fuoristrada che vanno a Bracetto. Ho particolarmente piacere, ripeto, che Mirko sia qui con noi oggi. Io devo fare un complimento innanzitutto agli organizzatori e a tutta la popolazione perché vedo che ci hanno accolto come una giornata di festa e questo per noi è importante. Roberto Portunato e tutto il suo staff hanno allestito qualcosa di meraviglioso. È il primo anno, l'importante è partire, poi ogni anno si migliorerà di qualcosa. Noi qui siamo come nazionale, questo ritiri, mini ritiri che ho cercato di inserire durante la stagione per aver modo di stare assieme con i ragazzi, di conoscerli un po' di più per quanto sia possibile e per fare comunque un percorso con loro che non è solo questa stagione di ciclocross ma sarà per i prossimi anni. Quindi noi come nazionale siamo presenti, ripeto, mi fa piacere che i ragazzi si impegnino, sono felici. Quando siamo in gruppo comunque anche ci divertiamo, quando c'è da lavorare si lavora. E rifaccio di nuovo i miei complimenti all'organizzazione, a tutti i ragazzi che hanno lavorato, ai volontari perché senza di loro queste manifestazioni non si svolgerebbero quasi mai. E' un ringraziamento sempre particolare e di cuore ai ragazzi dello staff della nazionale perché ci mettono anima e corpo finché i nostri ragazzi, i nostri futuri talenti abbiano tutto quello che gli serve per svolgere al meglio la loro attività.